Se ce la facciamo, perché questa si sta scaricando, sì, no, per carità, facciamo una carezza in un pugno, quella di Celentano. Una carezza, già la deco fa la prima, poi me la allarga molto, schermo intero. Allora, dedicata ai ragazzi degli anni Sessanta. A mezzanotte sai, che io ti penserò, ovunque tu sarai, sei mia. E stringerò il cuscino fra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano, quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu, a mezzanotte e tre, stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso una carezza nascerà. E stringerò il cuscino fra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà. Ma non vorrei che tu, a mezzanotte e tre, stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso una carezza nascerà. E stringerò il cuscino fra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà. Grazie.